Grande successo sabato sera ai musei civici di Treviso che sono stati aperti gratuitamente ai cittadini aderendo all'iniziativa Notte dei Musei, con ingresso serale gratuito e proposte di iniziative per promuovere le collezioni civiche. Credo che questa iniziativa dei musei aperti la notte sia stata veramente recepita in modo bellissimo dalla cittadinanza. Al Bailo alle 8 e mezza c'era la coda fuori e alle 9 a Santa Caterina c'era la coda fuori e ho visto veramente tante persone che hanno voluto fare della loro serata un evento speciale. Un modo per avvicinare le persone alla cultura ma anche rivitalizzare la città, un'iniziativa che visto il successo della prima volta ha tutti i presupposti per continuare. Con il personale che ringrazio stiamo facendo uno sforzo incredibile, apriamo i musei tutti i giorni, tranne il lunedì che è il giorno di chiusura, ma ogni sabato, ogni domenica, ogni festivo i musei sono aperti. Credo che questa sia un'opportunità che va segnalata e che il fatto che vengano poi tra l'altro frequentati, perché non solo sono aperti, ma vengono anche frequentati, vuol dire che c'è veramente un bisogno di cultura, un bisogno di bellezza che cerchiamo in tutti i modi di soddisfare e finora, credo, lo stiamo facendo.